Musica Aumenta anche in provincia di Agrigento il numero delle persone guarite mentre è contenuto il dato dei nuovi contagi. L'unico e ultimo caso di cui vi abbiamo dato contezza ieri si è verificato nella città di Sciacca. Secondo i dati forniti ieri sera dall'ASP altre tre persone sono guarite in provincia rispettivamente a Menfi, Ravanusa e Favara. Il numero complessivo dei guariti è salito dunque a 78. Sono sempre 8 le persone ricoverate in ospedali di altre province, 13 deceduti mentre 24 sono le persone in quarantena obbligatoria. Sempre due gli agrigentini che stanno completando il periodo di quarantena nella residenza sanitaria assistita della provincia di Caltanissetta. Nelle ultime 24 ore di riferimento l'ASP di Agrigento ha effettuato 163 tamponi mentre sono 4.785 quelli dall'inizio dell'epidemia. Con il nuovo contagio di ieri mattina la città di Sciacca registra 4 attuali positivi. 18 sono i guariti, 4 i deceduti e 26 sono stati i casi complessivamente registrati. A Menfi il numero dei guariti è salito adesso a 10. Su 12 casi complessivi si è registrato un decesso e attualmente una sola persona è positiva. Un attuale contagiato anche per il comune di Santa Margherita Belice su 4 casi totali e per i comuni di Favara, Dampedusa, Licata, Naro, Palma di Montechiaro e Siculiana. E il comune di Porta Empedocle è quello che attualmente registra il maggior numero di attuali positivi in provincia. Sono 5 su 6 casi complessivi, 4 attuali casi di contagio rispettivamente per Agrigento, Campobello di Licata e Sciacca, 3 positivi ancora a Canicattì e Castaltermini, 2 per Ravanusa e Realmonte. In provincia sono 35 le persone ancora contagiate. A livello regionale dall'ultimo report diffuso ieri pomeriggio si evince che continua ad aumentare il numero dei guariti e dei ricoveri in ospedale. Non solo, su 4.140 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore di riferimento si sono avuti solamente 12 nuovi casi di contagio in tutta l'isola. I tamponi complessivamente effettuati sono stati 91.306, di questi sono risultati positivi 3.267, mentre è rimasto invariato il numero delle persone ancora contagiate, sono 2.202 come il giorno precedente. Questo perché a fronte di 12 nuovi casi, nelle ultime 24 ore ci sono state altre 9 persone guarite e 3 decedute. I guariti sono ora complessivamente 818 e i deceduti 247. 10 persone in meno ricoverate in ospedale sono adesso 393, di cui 26 in terapia intensiva, mentre 1.809 sono in isolamento domiciliare. Passo dopo passo dunque si avvicina l'attesissimo inizio dei lavori per la realizzazione del secondo modulo dell'impianto di depurazione del comune di Sciacca, un intervento insieme a quello riguardante la realizzazione del secondo stralcio funzionale del piano di attuazione della rete fognante, gestito dall'Ufficio Nazionale del Commissario Unico per la Depurazione, ente tuttora affidato all'ingegnere Enrico Rolle, il quale nelle scorse ore ha comunicato a Francesca Valenti che la conferenza di servizi che ha esaminato il progetto esecutivo ha concluso positivamente i suoi lavori. A questo punto si attende davvero il via all'inizio dell'intervento. Scenario che fa dire al sindaco che siamo di fronte ad una buona notizia in considerazione del fatto che la realizzazione di questa opera pubblica è attesa da tantissimo tempo e ha una importanza notevole per la città di Sciacca. Quelli di cui stiamo parlando sono interventi per complessivi 10 milioni di euro. Si sperava che già lo scorso mese di gennaio potesse esserci l'affidamento dei lavori in questione, era stata solo l'ultima delle date indicate da Enrico Rolle per un investimento che tra gli altri ha scontato anche il ritardo collegato alla revoca di ogni incarico di organizzazione e gestione dei progetti a girgenti acque. Prima che il contratto venisse risolto infatti i progetti esecutivi erano stati prodotti proprio da tecnici incaricati dalla società di Aragona, poi però l'Ufficio del Commissario Unico per la Depurazione le aveva avvocati a sé, anche se è stato necessario effettuare degli adeguamenti, cosa che a quanto pare ha causato ulteriori perdite di tempo. Eppure quelli sotto i riflettori sono realmente progetti di importanza ambientale strategica per il futuro del territorio seccense, progetti rimasti inspiegabilmente bloccati per anni e che adesso dunque potranno essere realizzati permettendo un convogliamento totale dei reflui nell'impianto di depurazione di Contrada Bellante con la prospettiva di superare definitivamente gli sversamenti fognari in mare ma comunque in assenza di condotta di allontanamento. Il famoso pennello a mare non previsto dal progetto di acque depurate. Questi progetti fanno parte di un lungo elenco di investimenti tutti finanziati dallo Stato e in tutta Italia anche come tentativo di risposta alla procedura di infrazione decisa negli anni scorsi dall'Unione Europea nei confronti del nostro Paese per i gravi ritardi che si sono accumulati proprio in tema di depurazione delle acque. Attraverso l'affidamento delle opere le prospettive ambientali per il territorio si presentano più che rosee sia per i residenti sia per l'economia turistica perché di fatto permetteranno di completare il ciclo ambientale rendendo la rete fognaria finalmente moderna ed efficiente ed aumentando fino a poter far defluire i reflui prodotti dall'intera popolazione residente e non più solo da una parte come accade oggi la capacità di smaltimento. Questo potrebbe anche permettere la restituzione alla beneabilità di diversi chilometri di costa soprattutto di quella che si affaccia all'interno del perimetro urbano che ad oggi non sono più utilizzabili. Sono interventi che dopo le modifiche apportate prevedono la copertura con la rete fognante di zone originariamente non previste tra cui la stessa area Foggia-San Marco oltre al Ferraro. Interventi dunque di straordinaria importanza che possono imprimere una svolta nella qualità della vita di una città che da tempo aspetta di compiere un necessario salto di qualità. Dopo due mesi di chiusura forzata prosegue la crisi per bar e pasticcerie pochissimi i clienti che si affidano alle consumazioni da asporto oppure al domicilio. Continuando in questa maniera ovviamente le varie attività non riescono a coprire le spese giornaliere sia di produzione sia per quanto riguarda il pagamento dei servizi e delle bollette. Continuando così molti esercenti sono pronti a richiudere. La gente è molto poca che viene nei bar perché c'ha paura, però noi stiamo sensibilizzando la gente a venire nei bar perché abbiamo tutte le precauzioni, disinfettanti all'entrata, all'uscita nuovamente disinfettanti, i bagni pur disinfettati, abbiamo fatto la disinfettazione di tutto il locale. Io invito la gente a venire nel bar. Si lavora poco, non si possono sostenere queste spese, sono troppo poca la gente che viene. Molti dipendenti, molti ragazzi aspettano ancora la cassa integrazione, voi avete casi di questo tipo? Sì, abbiamo ragazzi in cassa integrazione, non li possiamo fare venire a lavorare perché c'è poco lavoro. Questo è il punto e se non si sblocca la cosa c'è di richiudere nuovamente. Va troppo male anche perché le regole sono un pochettino più serrate rispetto agli altri attività. Siamo da sport, quindi bene o male la gente o consuma fuori oppure se ne va direttamente. Consegna a domicilio non vale la pena perché c'è la distanza, c'è la sicurezza, c'è tante cose che non inquadrano. Se continua così rischeremo di chiudere tutte le attività di sciacca, parlando di barra perché non conviene stare aperte. Giorno 1 se si smuove qualcosa da parte della regione e del governo italiano si potrebbe aggiungere tavole fuori sempre con la distanza e con le sicurezze che ci sono. Nei prossimi giorni se la situazione continua così cosa succederà? Noi penseremo di abbassare la sede cinesca e riaprire di nuovo il momento in cui ci sarà un po' di apertura per tutte le attività commerciali. Volevo fare un appello alla gente perché comunque noi siamo aperti e rispettiamo le regole che ha emanato lo Stato, quindi penso che basta solamente seguire le regole sia da parte nostra che da parte dei clienti per iniziare a ripartire un attimino perché tutti qui i miei colleghi si lamentano del fatto che non ci sia abbastanza lavoro per coprire le spese. Devo dire che i clienti sono aumentati giorno dopo giorno però siamo ancora ai livelli minimi quindi non riusciamo a coprire le spese con quello che si fa. Speriamo che la gente prenda un po' di coraggio e sempre ripeto nel rispetto delle regole iniziare a lavorare un attimino di più. Avete chiesto voi aiuto allo Stato per quanto riguarda questi decreti? Assolutamente sì, abbiamo chiesto aiuto allo Stato ma gli aiuti che ci hanno dato attualmente sono praticamente nulli perché le famose 600 euro non ci bastano neanche a pagare la mensilità della luce. Sinceramente io non siamo stati ancora chiusi perché la gente è molto ancora spaventata dai media, dalle cose che si sentono quindi abbiamo preferito aspettare ancora per quanto riguarda la mia attività, il decreto che fino a ora si parla per il primo giugno. Ovviamente è perché ho ragazzi tutti in cassa integrazione e le spese non converrebbe visto la mancanza di risorse pure. La gente non deve aver paura come tutti gli studi europei che si sono stati fatti in questi periodi, praticamente i posti più sicuri sono mantenendo tutte le distanze di sicurezza, i dispositivi igienizzanti e tutto questo, i posti più sicuri addirittura più delle farmacie e supermercati sono il bar perché le persone appunto ripeto stando seduti o stando nei loro singoli spazi non c'è questo rischio alto del contagio. Le spese giornaliere sono di più delle entrate, la cosa che mi dispiace pure lasciando stare che io magari sono uno dei più giovani, gli imprenditori che ci sono come bar e gli operai che ancora ad oggi non hanno percepito neanche 50 euro per poter fare la spesa e giustamente chiamandoti, chi è una bambina nonata, chi ha due figli piccoli, 50 per fare la spesa io devo allagare le braccia e dire guardate quando posso li aiuto ma quando non si può io infatti voglio anche che la sindaca si faccia le stesse un'intervista per incentivare la gente a poter uscire per andare a ritirare un gelato d'asporto perché col domicilio quando una famiglia che non ha soldi ti chiama per due coni, una brioche mettendo in moto una macchina tra il gasolio e tutto non si riesce ad andare avanti così non ce la facciamo all'1 giugno così non si arriva perché più avanti si va e più ti arrivano le bollette della luce perché le bollette di nostra attività sono mensilmente, già abbiamo noi marzo aprile da pagare, ora scatterà pure maggio e più si va avanti, più si accavallano le cose la ripresa diventa ancora più difficile, la salita che tu la vedi un po' alzata ora la vediamo troppo ripida e la cosa è veramente critica Il cimitero comunale di Sciacca sarà eccezionalmente aperto domenica 10 maggio in occasione della festa della mamma dalle ore 9 alle ore 13, sempre domenica così come disposto dal presidente della regione e autorizzata anche l'attività dei fiorai. Dopo la chiusura per l'emergenza coronavirus il cimitero è stato riaperto da lunedì scorso e resterà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per rispettare le disposizioni nazionali e regionali ha precisato il sindaco è necessario regolare l'ingresso ed assicurarsi che gli utenti siano muniti dei dispositivi di protezione individuale e mantengano la distanza interpersonale di almeno un metro. Ancora chiusi invece parchi e giardini a Sciacca nonostante sia stata data facoltà ai sindaci di riaprirli già da lunedì scorso nell'ambito delle misure di allentamento e riprese di alcune attività disposte nell'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Con riferimento a ville e giardini abbiamo fatto una riunione con i dirigenti, ieri noi abbiamo mandato anche una direttiva al dirigente, si sta provvedendo alla disinfestazione, quindi un'attività di sanificazione della villa comunale e anche della villetta di San Michele intanto. E poi ho anche chiesto il supporto, che il dirigente autorizzi il supporto dei volontari che si sono messi a disposizione, i volontari di protezione civile, per poter meglio disciplinare l'ingresso e soprattutto verificare che all'interno di questi luoghi siano mantenuti il distanziamento e tutte le norme, siano rispettate tutte le norme che sono a tutela della nostra salute. Quindi su questo si sta lavorando proprio in queste ore e quindi credo che già domani avremo una precisa indicazione sull'apertura della villa comunale e della villetta di San Michele. Per quanto riguarda il parco del Museo del Carnevale, si è fatto un sopralluogo, gli uffici hanno fatto un sopralluogo, quindi aspetto una relazione per poter capire come consentirne l'accesso. Ricordiamo che ad oggi non è consentito utilizzare parchi giochi, quindi i bambini non possono utilizzare i parchi giochi e quindi bisogna un po' disciplinare l'ingresso e assicurarsi che questo venga rispettato. Ciò vale pure per la villa comunale dove c'è questo piccolo parco giochi, tant'è vero che verrà presidiato e chiuso con un cordone per impedirne l'accesso. In riferimento alle sollecitazioni pervenute ieri dai consiglieri di centrodestra sulla necessità di intervenire con ordinanza sindacale esplicativa per chiarire tutti i dubbi interpretativi dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco di Sciacca si limita a dichiarare che non intende avvalersi della facoltà di disporre provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal Presidente Conte e dal Governatore Musumeci. A fronte delle chiare disposizioni che sono state emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi con le ordinanze del Presidente della Regione Musumeci è evidente che al Sindaco non è rimesso un potere di ordinanza a riguardo e soprattutto è evidente che l'ordinanza sindacale non può avere una finalità interpretativa di norme che vengono emanate da altri organi nello specie che sono state emanate dal Presidente del Consiglio così come dal Presidente della Regione. Nel nostro Comune verranno applicate le disposizioni così come sono state emanate, non intendo assumere determinazioni restrittive rispetto alle indicazioni che ci vengono dal Governo nazionale e che ci vengono dalla Presidenza della Regione siciliana e per questo motivo non ho inteso assolutamente emanare ordinanze. Vorrei ricordare infatti che il potere rimesso al Sindaco è un potere restrittivo, cioè io potrei per questioni particolari, eccezionali che riguardano la nostra città potrei stringere rispetto a quello che è consentito dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Regione e non intendo adottare delle misure restrittive, quindi nel nostro Comune si applicano le norme così come previste a livello nazionale e a livello regionale. Inizierà la prossima settimana l'intervento straordinario di pulizia delle spiagge e del litorale Saccienza e quest'anno è in ritardo anche per le vicende legate all'epidemia da Covid-19. Lo ha annunciato l'assessore Michele Bacchi evidenziando che già a marzo era stato avviato l'iter per l'intervento che solitamente si effettua nel mese di aprile. Proprio oggi abbiamo ricevuto da parte del Demanio una nota di riscontro della richiesta che avevamo fatto per tempo, quindi nella specie i primi di marzo, dove chiedevamo l'autorizzazione ad effettuare questa pulizia. Quindi nota che è stata immediatamente riscontrata, quindi presumo che anche seppur leggermente in ritardo rispetto all'anno scorso, laddove la pulizia straordinaria è stata fatta a fine aprile, quest'anno credo che dalla prossima settimana quindi possono benissimo iniziare gli interventi di pulizia straordinaria, che come detto dall'inizio continueranno per circa 15-18 giorni, insomma il tempo necessario per ripristinare la visibilità delle spiagge, considerata chiaramente che il tempo dipende dalla quantità di scarti, di rifiuti eccetera, tutto quello che c'è sulle spiagge. Quando dovrebbe partire invece la pulizia ordinaria, posto che però ancora non abbiamo alcuna notizia su quella che sarà la stagione balneare? Da contratto la pulizia ordinaria dovrebbe partire e presumo che partirà il primo di giugno, che poi pulizia ordinaria che si susseguirà giornalmente in tutte le spiagge, tutte le spiagge balneabili, così come negli anni passati, anche quest'anno da calendario è previsto il primo giugno. Si avvia la pulizia delle spiagge dunque con tutte le incognite ancora legate alla prossima stagione balneare. Nelle spiagge oggi è consentito andare a svolgere ad esempio attività motoria, ma non si può approfittare delle belle giornate per la prima tintarella della stagione. È necessario però farsi trovare pronti e dunque non solo procedere alla pulizia delle spiagge, ma lavorare anche per gli altri servizi, a cominciare da quello importantissimo della vigilanza. Stiamo lavorando e ragionando come se siamo in una situazione ordinaria, perché non possiamo aspettare che arrivi il decreto o l'ordinanza. Noi intanto stiamo lavorando per organizzare la stagione così come se fosse un periodo normale, perché poi nel momento in cui c'è un divieto o una liberalizzazione noi in quella sede e in quel momento dobbiamo essere già pronti per operare. Quando dovrebbe essere fatta la gara di appalto per il servizio di vigilanza? Ma guardi, su questo non so perché stanno lavorando gli uffici, però le aggiungo che proprio oggi in pomeriggio abbiamo degli incontri con gli stabilimenti balneari a San Marco proprio appunto per andare a focalizzare quali sono le procedure, gli inter e le proposte ecco che loro, gli operatori quindi ci faranno giusto per avviare un percorso comune e condiviso. A quanto riguarda la gestione dell'emergenza dal punto di vista sanitario, lei chiede se è fatto anche sul dibattito che ha riguardato l'istituzione all'interno dell'ospedale di sciacca di un numero piuttosto sostanzioso di posti letto che peraltro per fortuna l'epidemia per come si è poi diffusa permette di stare ancora tranquilli e tuttavia però la percezione che il cittadino ha dell'ospedale non è delle migliori. Qual è la sua opinione? Le scelte di indirizzo politico che hanno riguardato la gestione dell'emergenza dal punto di vista sanitario e quindi nello specifico le scelte del governo regionale, che a me sembra essersi mosse quantomeno in provincia di Agrigento, perché poi scopriamo che in tutte le altre province sono state adottate soluzioni diverse, perché non mi pare che sia stata adottata una linea in tutte le province siciliane, ma qui in provincia di Agrigento si sono adottate delle misure che a me sembrano essere palesemente in contrasto con le linee guida dettate dal Ministro Speranza, dal Ministero della Salute. Sembrava che anche il governo della regione stesse muovendosi in questa direzione, allora quando si era deciso, anche seguendo le indicazioni di alcuni parlamentari, fra cui l'onorevole Catanzaro, di riconvertire le vecchie IPAB della provincia di Agrigento e di creare spazi ad hoc da destinare ai pazienti Covid. Improvvisamente d'amblè il governo regionale se ne è uscito con questa soluzione degli ospedali misti e quindi di spalmare i posti Covid nelle due strutture ospedaliere di Agrigento e di Sciacca, creando non poca confusione e creando non poche preoccupazioni, che grazie a Dio non hanno trovato il riscontro nei numeri dei pazienti che, come diceva lei, si sono mantenuti entro limiti fisiologici accettabili. Gestibili, diciamo. Mi chiedo cosa sarebbe successo se Dio non voglia i numeri fossero stati diversi. Ma io credo che queste valutazioni di merito politico vadano confutati con quegli organismi che dettano le linee di indirizzo politico e quindi con il governo della regione, non con chi opera sul piano tecnico e professionale e non ha competenze di ordine politico. Lei si riferisce al commissario d'acta, il professore Firenze? Ovviamente sì. Quindi probabilmente lei sta dicendo che forse aver polemizzato con lui può essere stato un errore? No, il commissario d'acta ha gestito una fase delicata e quindi è doveroso da parte di chi detiene la politica sanitaria in questa città, chiedere chiarimenti. Sul piano invece della dialettica politica i rilievi io preferirei muoverli all'organo politico e quindi al governo della regione che, ripeto, a me è sembrato non sufficientemente chiaro e non sufficientemente in linea con le linee guide provenienti da Roma. Si è rivolto al direttore regionale e provinciale delle poste ma anche al prefetto di Agrigento, il sindaco di Ribera Carmelo Pace, per denunciare una situazione rischiosa. È quella che viene a determinarsi a causa del fatto che gli uffici postali hanno chiuso sportelli e ridotto i orari di ricevimento del pubblico. Di conseguenza la gente crea assembramenti con un livello di rischio contagio assai elevato e spesso succede che centinaia di anziani sono costretti ad aspettare ore e ore sotto il sole per poi, intorno alle 13.30, sentirsi dire di ritornare l'indomani perché l'ufficio deve chiudere. Il sindaco Pace, in buona sostanza, ritiene che le decisioni adottate da poste italiane di chiudere cioè la succursale concentrando tutti gli utenti anziani in un unico luogo, adottando addirittura un orario ridotto, finiscano con il favorire gli assembramenti quando invece i vari DPCM, ordinanze regionali e locali vanno tutti nella direzione di evitare situazioni a rischio contagio e concentrazione di persone nello stesso luogo. Il sindaco di Ribera chiede pertanto alla direzione regionale e provinciale di poste italiane di mettere fine a tale organizzazione degli uffici che rischia di vanificare gli sforzi e sacrifici di tutti, oltre a creare disagio a tanti anziani costretti a lunghe attese sotto il sole. A Ribera intanto c'è chi sollecita alcune modifiche all'ultima ordinanza emessa dal sindaco. Si tratta del candidato a sindaco Matteo Ruvolo che interviene in particolare per ciò che concerne il punto dell'ordinanza in cui si dispone la chiusura della villa comunale perché ritenuta area in cui non è possibile assicurare il divieto di assembramento. Vero è che l'ultimo DPCM consente ai sindaci di poter chiudere ville e giardini nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza e evitare assembramenti, puntualizza Matteo Ruvolo, ma questo, a giudizio dell'avvocato riberese, non significa attribuire agli stessi sindaci il potere di chiudere tali spazi pubblici a propria discrezione o con giustificazioni generiche. Per quanto riguarda la villa comunale di Ribera, Ruvolo ritiene infatti che ci sia la possibilità per garantire rispetto delle distanze di sicurezza e di evitare il rischio di assembramenti. Del resto, fa notare Ruvolo, nella stessa ordinanza sindacale tale possibilità è stata ritenuta fattibile per il centro sportivo di Contrada Spataro che è stato aperto ed è fruibile al pubblico con le giuste prescrizioni. Stessa cosa si può fare dunque per la villa comunale, il cui accesso andrebbe consentito quantomeno ai bambini e ai diversamente abili e adeguatamente accompagnati con un'apertura organizzata in maniera flessibile dopo adeguata sanificazione e pulizia dell'area. La fase 2 richiede sicuramente, sia da parte delle istituzioni sia dei cittadini, grande capacità organizzativa e disponibilità all'ascolto delle esigenze di tutti. Per questo motivo, conclude Matteo Ruvolo, ritengo sia necessario ripristinare per quanto possibile tutte quelle libertà individuali e quelle esigenze personali, sociali e lavorative che finora, al fine di tutelare un bene superiore, hanno subito forti limitazioni. Antonello Nicosieci aveva già provato ai primi di marzo ad ottenere la scarcerazione, sostenendo attraverso il suo avvocato di temere di poter essere contagiato dal coronavirus all'interno del carcere di Voghera, in provincia di Pavia, dove è tuttora recluso. Il Tribunale di Palermo però rigettò quell'istanza. Quello delle scorse ore è dunque il secondo tentativo di Antonello Nicosia di ottenere almeno gli arresti domiciliari, eventualmente anche con l'applicazione di braccialetto elettronico. La motivazione della nuova richiesta, presentata a nome di Nicosia dall'avvocato Salvatore Pennica, riguarda lo stato di salute del 49enne Saccense, arrestato lo scorso novembre nell'ambito dell'operazione antimafia denominata Passepartout. Soffre d'asma, la detenzione rischia di aggravarne le condizioni riferito illegale tra le righe dell'istanza avanzata, legale che tuttavia con l'occasione ha insistito ancora una volta circa la necessità di revocare la custodia cautelare del suo cliente sulla base di quella che viene da lui considerata una sostanziale carenza degli indizi a carico di Nicosia. Pennica assiste legalmente anche a Cursio Di Mino, accusato di essere il capo mafia di Sciacca, anche lui coinvolto con Nicosia e con altri tre soggetti, più la parlamentare Giuseo Eccionero, accusata di favoreggiamento nell'ambito dell'operazione Passepartout. Anche Di Di Mino, ad oggi detenuto a Napoli, nei giorni scorsi Pennica aveva chiesto la scarcerazione, evidenziando come il suo cliente versasse in precarie condizioni di salute, avendo probabilmente bisogno di essere ricoverato, anche se con la pandemia in atto, perfino un accesso ospedaliero, a dire del legale, rappresenta un pericolo per il suo cliente e di conseguenza la soluzione migliore per lui sarebbe quella di accordargli una terapia medica direttamente del suo domicilio. Si attende adesso il pronunciamento della magistratura su queste stanze. L'indagine a carico di Nicosia e Di Mino, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, aveva messo in evidenza la presunta ripresa dell'attività della famiglia mafiosa di Sciacca. Sullo sfondo ipotesi di affari illeciti, ma anche l'intento emerso da alcune intercettazioni acquisite agli atti di fare uccidere un imprenditore di Sciacca e, dopo aver sospettato di poter essere arrestati, di fuggire negli Stati Uniti d'America. Ma l'operazione Passepartout è finita sotto i riflettori soprattutto per la facoltà che Nicosia aveva acquisito di poter visitare le carceri, nella qualità di assistente parlamentare dell'onorevole Occhio Nero. Una facoltà che, secondo i magistrati palermitani Paolo Guido, Francesca Dessi e Geri Ferrara, Nicosia, che nel frattempo era diventato garantista dei diritti dei detenuti, aderendo anche ai radicali, sfruttava per incontrare persone rinchiuse al 41 bis vicino al superboss latitante Matteo Messina Denaro, facendosi l'autore dei loro messaggi all'esterno. Vicenda che ha fatto finire nei guai anche la deputata, eletta con libero uguale, successivamente transitata nel gruppo d'Italia Viva. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini alle sei persone indagate. Oltre a Nicosia, Di Mino e Giuseo Eccionero ci sono anche i gemelli Paolo e Luigi Ciaccio e Massimiliano Mandracchia. Questi ultimi sono tutti accusati di favoreggiamento. Tornano gli sbarchi sulle coste agrigentine. Una cinquantina di migranti sono sbarcati questa mattina sulla spiaggia di Torre Salsa. Una volta toccata la terraferma si sono dileguati per far perdere le proprie tracce, ma 29 sono stati bloccati da polizie, esercito e carabinieri. Degli altri ancora nessuna traccia e continuano le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Ritardi oggi nell'erogazione del servizio idrico in alcune zone della città di Sciacca. È stato riscontrato questa mattina dalla gestione commissariale il mancato funzionamento delle pompe e dei pozzi incontrata a Carboi e Grattavoli a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura elettrica. Si è già provveduto a ripristinare il regolare funzionamento, ma non essendo stato accumulato un volume d'acqua sufficiente nei serbatoi comunali, i servizi di distribuzione idrica, previsti per oggi, hanno subito dei ritardi. Miglioramento delle condizioni della rete viaria provinciale. L'ufficio gare del Libero Consorzio di Agrigento ha giudicato un importante appalto per i lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria secondaria, comparto Menfi-Montevago-Santa Margherita-Belice-Ribera-Cianciana-Zona Ovest 3 per un importo a base d'asta di 2 milioni e 56 mila euro, ha giudicato a lati Falco Costruzioni SRL con sede a Vallelunga-Patrameno. Le strade che saranno interessate dai lavori sono la Sambuca-Santa Margherita-Belice-Sala Paruta, la Montallegro-Ribera, la strada provinciale che va dalla Provinciale 44 alla SS 624 Sciacca-Palermo e la Passo Gurra-Portopalo. La durata prevista del contratto d'appalto sarà di 365 giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori progettati dallo staff tecnico del settore infrastrutture e finanziati con i fondi del Patto per il Sud. È davvero insopportabile leggere la notizia di dipendenti regionali che in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo avrebbero il coraggio di chiedere un bonus di 10 euro in più per il caricamento di ogni pratica di cassa integrazione inderoga. Lo dice il parlamentare regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro. Oggi ci sono circa 130.000 lavoratori e circa 37.000 aziende che attendono increduli e indignati che l'iter si sblocchi e che l'Inps possa iniziare a pagare gli assegni della cassa integrazione inderoga. Una situazione gravissima, aggiunge il parlamentare Sacenza, accompagnata da un imbarazzante rimbalzo di accuse tra burocrazia e sigle sindacali, con il governo regionale sempre più incapace di venire a capo della vicenda. Considero moralmente censurabile sotto tutti i punti di vista, conclude Michele Catanzaro, chiedere il pagamento di bonus supplementari solo per fare il proprio dovere, mentre centinaia di migliaia di siciliani onesti, proprio a causa di questi scandalosi ritardi, vivono nella disperazione. L'amministrazione comunale di Calamonaci, al fianco dei commercianti, che a causa del Covid-19 si sono visti costretti ad abbassare le saracinesche, i titolari delle attività commerciali, oltre ad aver avuto decurtate tutte le tasse comunali, hanno ricevuto un contributo in denaro che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del titolare. Un gesto di vicinanza nei confronti di chi aveva come unica fonte di reddito tale attività. Era un atto dovuto, dice il sindaco Spinelli, le attività sono il polmone di un comune, senza di loro l'intereconomia si ferma. Un gesto di speranza per tutti i miei concittadini. Il sindaco Spinelli, inoltre, in qualità di operatore sanitario dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, ringrazia l'Istituto di Credito Banca di Credito Cooperativo San Francesco di Canicattì di Ribera per la donazione di 400 mascherine che sono state distribuite al personale sanitario del locale Nosocomio. Il Rotary Club distretto 2110 Sicilia Malta ha consegnato al commissario ad acta per l'emergenza Covid degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera, Alberto Firenze, delle mascherine da distribuire al personale sanitario. Firenze con una lettera ha espresso apprezzamento e gratitudine per la donazione. Un gesto di grande sensibilità e generosità in un momento di grande difficoltà, commenta il commissario Firenze. Le mascherine sono destinate al personale che quotidianamente assiste alle persone affette da Covid-19. La fine dell'emergenza e l'avvio della fase 2 coinciderà con il bisogno da parte di molte categorie sociali di avere anche supporto psicologico. È in base a tale necessità che la CISL delle province di Agrigento, Caltanissette ed Enna ha promosso con la collaborazione delle associazioni Antese ed Anolf uno spazio amico che ha l'obiettivo di essere un punto di riferimento di possibili fragilità con uno sportello telefonico che fungerà da centro di ascolto per quei cittadini afflitti da problematiche connesse al mondo del lavoro, a quello economico, del sociale e della salute. Il servizio sarà attivo anche nelle province di Agrigento, Caltanissette ed Enna, zone caratterizzate da forte e crescente disagio. Saranno quattro le psicologhe che a turno garantiranno il funzionamento di questo servizio nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 11 e dalle 14 e 30 alle 18. Il segretario generale della CISL Emanuele Gallo e i segretari territoriali Carmela Petralia ed Emanuele Piraino fanno sapere che l'obiettivo della sigla sindacale è di contribuire ad alleviare le complicazioni del sociale generate dal prolungato isolamento, dall'impossibilità di coltivare consuete relazioni effettive, familiari e professionali. Per un ipocondriaco che vuole smettere di tormentare chi gli sta accanto con le proprie ossessioni, trovare una valvola di sfogo è una questione vitale. Ma come si impara ad affrontare la paura da soli? Forse raccontandosi è quello che fa Lorenzo Marone senza timore di mostrarsi vulnerabile con una voce che all'ansia preferisce lo stupore e il divertimento. Scorrendo l'inventario delle sue fobie, ognuno può incontrare un pezzo di sé e partecipare all'affannosa, autoironica ricerca di una via di fuga, indiscipline e pratiche disparate. Dalla medicina alla fisica all'astronomia, dalla psicologia alla religione, dai tarocchi all'astrologia. Alla fine, se esorcizzare del tutto l'angoscia e arresto miraggio, possiamo comunque reagire alla fragilità ammettendola e magari accogliere con un po' di leggerezza le imperfezioni che ci rendono unici, le confessioni comiche, poetiche, paradossali di un cuore all'allarme, che prende in giro se stesso mettendo in scena quello che, da Molière a Woody Allen, è sempre stato il più irresistibile dei personaggi tragici. Inventario di un cuore allarme di Lorenzo Marone, edito e in Audi. Grazie.